Ok, buonasera a tutti, bentrovati a questo appuntamento con il video live, martedì 11 dicembre 2007, sono le 18 in punto e iniziamo questo appuntamento, io sono Stefano Bargiacchi, prof.ste, saluto quanti mi conoscono, anche quelli che non mi conoscono, visto che negli ultimi tempi ai vari expo, ITF e cose varie, ci siamo incontrati di persona con moltissimi di voi e so che molti mi stanno ascoltando, quindi vi saluto e chiaramente saluto anche tutti gli altri, quelli che mi conoscono solo virtualmente, per tutti quelli che non mi conoscono ho questo sito, quindi volendo, cercando prof.ste su Google che è il nickname, potete arrivare al mio sito. Stasera parliamo di una cosa assolutamente meravigliosa che è inclusa nel Visual Trader e che sto usando in una versione beta da circa un mesetto, ma che come regalo di Natale sarà disponibile per tutti voi entro le vacanze di Natale. Si tratta del grafico NTIC, quindi di una visione, come avremo modo di vedere questa sera del grafico che è completamente sganciata dal tempo, ma si basa sul numero delle transazioni effettuate. Accanto a questo grafico NTIC sarà disponibile anche, dopo diremo che cos'è, il grafico N-Volume, quindi una cosa assolutamente analoga, solo che non è ancora operativo sul server quello basato sui volumi, quindi stasera vedremo soltanto l'NTIC, ma come si intuisce le considerazioni, scusatemi che qua mi ha aggiornato l'antivirus, le considerazioni che faccio stasera per quanto concerne l'NTIC saranno poi riproducibili tali e quali per l'N-Volume. Prima di iniziare volevo spendere due parole al volo per quanto concerne il discorso di Napoli, dell'ITF di Napoli, perché venerdì scorso c'è stato appunto l'ITF e se qualcuno avesse dei problemi di audio o di video, siccome tutto funziona perfettamente, deve soltanto scollegarsi e ricollegarsi. A proposito dell'ITF di Napoli è stata un'esperienza meravigliosa, abbiamo avuto modo anche di trasmettere il video live del mio intervento, poi da lì sì abbiamo avuto un po' di problemi, alcuni non sentivano, c'è stato un problema di linea, il problema era tutto legato al fatto che l'albergo nel quale eravamo alloggiati ha avuto un problema con la sua connessione a Internet, la DSL e da lì a cascata c'è stato il momento di panico per tutti e quindi il video live ne ha risentito, comunque è stata anche quella in sé una bellissima esperienza perché il fatto di poter parlare con voi a casa e con le persone presenti in sala, impegnativo perché è come avere due pubblici diversi e quindi devi un pochino mediare nel parlare perché le modalità di comunicazione con delle persone presenti o delle persone distanti sono diverse, però è stata molto bella e sicuramente ve la ripeteremo con i prossimi appuntamenti e l'esperienza insegna chiaramente gli errori e le cose saranno eliminate. Per quanto riguarda l'NTIC, per quanto riguarda Napoli, poi io sul mio sito nei prossimi giorni continuerò a parlare di questa esperienza che non si è limitata solo all'ITF come ho già avuto modo di dire, ma ho avuto l'enorme fortuna di passare tutta la giornata di sabato insieme a John Bollinger perché siamo andati anche con gli altri di Traderlink, altri trader come Pietro Di Lorenzo, a fare questa chiamiamola gita turistica per Napoli, però con quest'ospite d'eccezione. Io che ho avuto modo di parlare con John in vari momenti durante la giornata, mi sono fatto spiegare un po' di cose riguardo ai suoi inizi, riguardo a lui ha iniziato, mi raccontava nel 1980 e quindi riguardo a quello che è il trading professionale, robe simili e man mano mi manca solo il tempo per farlo, comunque pubblicherò sul sito tutto quello che più o meno ci siamo detti perché sono cose molto interessanti e che trovo siano utilissime da sapere anche per voi. Poi l'altra cosa molto bella è stata appunto aver conosciuto anche e aver avuto modo di passare qualche giornata insieme, scambiarsi opinioni, cose, insomma molto molto produttive, il tempo con altri trader tra cui Pietro Di Lorenzo con il quale siamo stati insieme tantissimo perché poi essendo di Napoli era un po' quello che ci accompagnava, organizzava, faceva, una persona splendida, veramente deliziosa e poi anche tutti gli altri, Stefano Fanton, Davide Biocchi etc., tutti quelli che erano presenti ed è stato bello avere modo di passare qualche giornata insieme, scambiarsi opinioni, cose, insomma molto molto produttivo davvero e quindi di nuovo tutto quello che più o meno ho anche io imparato in quei giorni, cercherò di riportarlo poi sul sito e di condividerlo come faccio sempre con voi. Ok, veniamo all'argomento di stasera, allora questo grafico NTIC è un grafico che in qualche maniera sgancia il discorso tempo, è un time frame però non è basato sul tempo, quindi time frame è improprio come discorso. Andiamo a vedere subito sul visual trader, stasera niente slide, così il problema di annoiarsi o simili non ci sarà, sarà un video live unicamente operativo, prendiamo il nostro Fib, sto usando una versione visual trader che sarà quella di prova disponibile per voi a partire da entro Natale, pochissimi giorni la stiamo provando, a me sembra abbastanza stabile, funziona perfettamente il discorso dell'NTIC etc., e vediamo di che cosa si tratta. Mi è già stato chiesto se questo NTIC è quello che è presente anche su altre piattaforme e confermo che è la stessa cosa, diciamo che l'unica differenza risiede nel fatto che questo NTIC, siccome ho contribuito e lo dico con un certo orgoglio a farlo implementare in visual trader, diciamo senza false modeste o cose simili, me lo sono fatto fare proprio come lo volevo io ed è infatti un prodotto secondo me assolutamente, il risultato di questo lavoro comune è un prodotto assolutamente molto, molto, molto utile veramente. Io lo sto, come ripeto, usando da un mese e mi trovo assolutamente bene e spero che da quando avrete la possibilità di utilizzarlo anche voi lo implementerete nel vostro trading. Andiamo per capisaldi, questo NTIC è, dicevo, un timeframe che si usa o meglio io utilizzo, perché poi gli utilizzi possono essere molteplici, al di sotto dei 15 minuti, cioè per timeframe inferiori, vedete qua ai 15 minuti, utilizzo questo NTIC, poi tra un attimo vediamo che cos'è. Ecco, quindi se volete prendere due appunti, ma se no poi mi scrivete e vi posso specificare anche via email o sul sito, quando uscirà ufficialmente ne parlerò, l'utilizzo che io faccio di questo grafico è per tutti i timeframe al di sotto dei 15 minuti, questo non toglie che io possa guardare anche il 5 minuti e il grafico a un minuto, cosa che faccio talvolta, ma fondamentalmente l'NTIC è il mio riferimento per tutti i timeframe al di sotto dei 15 minuti. Di che cosa si tratta? Allora, qualcuno di voi ricorderà che gran parte del mio trading a livello di calibrazione delle entrate e dell'uscita è basato sul flusso dei contratti, io mi guardo il mio time and sales, cioè questo che adesso il FIB S&P è chiuso, prendiamo per esempio il Bund, guardando il time and sales voi avete questa sequenza di contratti e quindi di transazioni che sono state concluse, ogni riga di questo time and sales vuole dire un TIC, vedete ad esempio qui alle 18.09 e 16 secondi sono passati 3 contratti, dopo ne sono passati 25, ecco il TIC per definizione prescinde dal volume, cioè dal numero di contratti che sono stati scambiati, quindi un TIC è, per farla semplice, una riga di queste qui, ovvero una transazione conclusa, compravendita che prescinde dal numero di contratti, questa è ovviamente una semplificazione e vi dico subito che il grafico N TIC è basato, ad esempio questo che vedete per l'Eurobund è un grafico a 100 TIC, vedete qua vi compare N TIC insieme a tutti gli altri time frame e 100 è il numero di TIC, vuole dire che ogni candela o barra è composta da 100 righe, cioè è sganciata dal fattore temporale, perché? Perché dopo 100 righe di queste qua o formalmente dopo 100 transazioni, la barra cambia e si passa alla successiva, questo è in sintesi l'N TIC, vi dicevo un difetto, una semplificazione è il fatto che si prescinde dai volumi, cioè che sia passato come qua un contratto o che ne siano passati 67, 50 o 221, un TIC vale sempre 1, cioè si va per transazioni, questa è ovviamente una semplificazione e la soluzione alla semplificazione è usare l'N volume, che invece è un discorso assolutamente analogo, però in ogni barra ti mette non più 100 righe di queste qua, ma per esempio 100 contratti o 1000 contratti o 10.000 contratti, quindi si parla di volumi veri e propri e non di transazioni, anche lì è abbastanza una questione, poi ci farete la mano quando avrete la possibilità di utilizzarli e farete ovviamente le diverse prove, ma sostanzialmente è una questione di gusti, diciamo che per quanto mi riguarda mi adeguo a quello che fanno i più grandi trader professionisti, specialmente negli Stati Uniti, dove l'N TIC viene utilizzato tantissimo e l'N volume relativamente poco, questo perché? Perché in sostanza è chiaro che se qui ne passano 220 di contratti, poi ne passa 1, 1, 1, 1, insomma in media il discorso è che può rappresentare abbastanza fedelmente una media di quello che succede, comunque ripeto, chi avesse un disagio, un problema a utilizzare l'N TIC può utilizzare l'N volume dove ogni candela o barra riprodurrà fedelmente il numero di volumi, il volume scambiato, c'è da dire che l'N TIC permette qua sotto, come tutti i grafici, di aggiungere i volumi, quindi uno molto semplicemente si prende i suoi volumi, ecco questo può essere un discorso che in qualche modo neutralizza il, ecco vedete quei volumi, ecco tra l'altro qua si nota come il discorso, vedete come sono abbastanza piatti, a parte qualche punta, però in questa fase si nota come il discorso semplificazione rimane abbastanza veritiero, vero è che ci sono però momenti come questa barra dove il volume è stato maggiore e dall'N TIC questo non si vedeva, in realtà per quanto riguarda la mia operatività io mi baso molto anche sull'ampiezza in intraday parlo della barra, quindi vedete che questa barra rossa un pochino più lunga, poteva far intuire che c'era un pochino più di volume rispetto alle altre, comunque togliamo il discorso volume, però io non lo utilizzo in intraday perché guardando chiaramente il time and sales non, ok, guardando il time and sales il volume me lo vedo da qua, come dire, me lo vedo in diretta, consiglio invece di utilizzare il volume in intraday a chi non ha il tempo di seguire costantemente i mercati, il monitor e quindi è chiaro che il volume può rappresentare un bel riassunto di quello che è accaduto, quindi è probabile che nel mio caso questa barra rossa io avrei visto la formazione della stessa, quindi dei grossi volumi che passavano qua sul ticker o time and sales che dir si voglia e quindi riesco a vivere il fatto che quella sia costituita da una maggior parte di volume, comunque ripeto, NT che ne voglio in questione di preferenze, se può essere utile, sappiate che sostanzialmente gli americani i trader più grandi, a partire da Linda Rashky e che come qualcuno di voi sapranno è una della quale ho imparato moltissimo, utilizzano l'NT che non l'N volume, quindi diciamo anche a fiducia, un motivo ci sarà e quant'altro, ok, benissimo, allora dicevo, l'utilizzo principe di questo NTIC nasce chiaramente per… ok, nasce chiaramente dicevo, ecco mi dicevano che l'N volume sarà disponibile addirittura da domani, sempre sulla versione beta, perché per adesso non si può utilizzare anche sulla beta, quindi tempo di fare i test e poi verrà reso il tutto disponibile per tutti con grande orgoglio da parte mia e di tutto lo staff ovviamente di Traderlink che ha lavorato su questa realizzazione, che veramente ha fatto fare un ulteriore salto di qualità a questa piattaforma che è già ottima a mio avviso. Allora dicevo, come nasce l'NT? L'NT nasce dall'esigenza di cercare di neutralizzare i grafici dei titoli cosiddetti sottili e dei future nei momenti in cui ci sono pochi contratti, come ad esempio per quanto riguarda i future, quelli che vanno avanti tutta la notte, c'è i cosiddetti globex, quelli sull'S&P 500, sul Nasdaq 100 etc., ecco chiaramente durante la notte ci sono i momenti in cui la liquidità è molto poca, ci sono pochi scambi, per cui un grafico come ad esempio questo, questo è un grafico orario, però un grafico che è basato sul tempo, può diventare tutto frastagliato, avete presente, è molto illegibile, allora il discorso NTIC risolve in parte questo discorso, adesso lo vediamo insieme, tra parentesi, alcuni di voi avranno notato che questa barra qui sopra, quella che non mi ricordo come si chiama, strumenti del grafico che si attiva da qui, sì forse strumenti del grafico, è stata modificata, è stata modificata sempre in base a una serie di consigli che ho dato io e che secondo me alcuni di voi avranno modo di apprezzare come faccio io, perché ad esempio vedete che da qua io cerco di pulire il più possibile la finestra, cioè tolgo tutto, questa è una cosa che Visual Trader ti permette di fare altri software o no, quindi questo è fatto al fine di ottimizzare lo spazio e poi nella barra qua sopra ho tutto quello che mi interessa, cioè il modello da applicare, ma è quello il meno, quello che interessa è soprattutto l'ampienza del grafico, quindi se da 5 giorni di storico voglio passare a 10 giorni, posso fare direttamente così invece che fare come facevamo prima col clic destro e quant'altro, la compressione, quindi posso passare in un attimo al grafico a un minuto molto semplicemente, vedete tu selezioni il grafico e qui sotto ti selezioni il tipo di compressione, quindi 5 minuti, secondo me è una cosa molto comoda e molto veloce e poi selezionando il grafico automaticamente guardando qua sopra, non ho bisogno di scrivermelo qui, ho il mio time frame, in questo caso un NTIC a 100 TIC, da questa casellina se metto 200 TIC o anche 299, quello che si vuole, posso immediatamente modificarlo, una cosa utilissima, fantastica che sto usando in questi giorni e veramente ha dato un'ulteriore velocità a quando devi cambiare la finestra e cose simili, perché non sembra, ma è molto importante per chi opera soprattutto in intraday anche avere una discreta manualità sul fatto di cambiare time frame, cambiare grafico e quant'altro, questa finestrella qui, strumenti di disegno adesso così completa, vedete grafico a candele, puoi cambiare in un attimo, passare al grafico a barre, listogramma o quello che è, è una cosa secondo me che aumenta di molto la manualità, quindi spero che alcuni di voi avranno modo di apprezzare questa ulteriore miglioria, che può sembrare una cosa minore, ma non lo è, tra l'altro è stata aggiunta anche questa finestrella dove avete tutte le finestre aperte, quindi io per cambiare grafico, mettiamo adesso voglio vedere l'Eurostox, che in teoria avrei qui sul pannello realtime 1, quindi invece di fare realtime 1, tarata, ho il mio elenchetto qua di grafici aperti, l'Eurostox mi passa direttamente sull'altro coso e me lo seleziona, dicendomi che è un 5 giorni, 5 minuti e poi ulteriormente da qui posso passare subito al 15 minuti, posso passare subito al 2 ore, al 3 ore etc., anzi a proposito del 2 ore, altra cosa che ho chiesto e molto gentilmente è stata aggiunta, è il time frame a 2 ore, che è un time frame che prima mancava effettivamente, perché si passava da 1 ora a 3 ore, ma anche questo è molto utilizzato negli Stati Uniti, questo non è che dice tu vuoi fare l'americano, ma perché le robe degli Stati Uniti? È molto semplice, è chiaro che è necessario in qualche maniera adeguarsi a quello che fa il mercato più liquido e dove c'è più volume in tutto il mondo, quindi se loro utilizzano l'NT, che parlo dei professionisti, se loro utilizzano il 2 ore oltre che il grafico orario, come dico io, è bene cercare di avere una visione dei mercati che sia il più possibile simile a quella dei professional, cioè di chi muove milioni e milioni di dollari, quindi se gente così guarda il 2 ore, è probabile che ci sia un motivo, anche senza voler stare a indagare e quindi è probabile che sia utile cercare di vedere quello che vedono loro. Tra l'altro, parentesi nella parentesi, io tendo a avere un'operatività che cerca di riprodurre il più possibile e di arrivare a pensare come pensano gli istituzionali, i market maker, come abbiamo avuto modo di parlare anche a Napoli o agli altri incontri che ho avuto con voi, è proprio un tentare, è un tentativo la mia operatività, il mio metodo di passare dall'altra parte della barricata, dico sempre è inutile lamentarsi a che cattivi quelli lì hanno fatto, hanno mosso, è manipolato, è manovrato, è possibile, è molto difficile, ma è possibile, ci vuole un certo impegno, però con un po' di impegno si riesce a passare, come dico io, dall'altra parte della barricata e a vedere quello che vedono loro e a utilizzare quello che utilizzano loro, un esempio può essere l'NTIC, un esempio può essere il grafico a 2 ore, quindi per questo motivo prima cosa sono stato lieto di poterli far aggiungere qui al nostro Visual Trader, che era già un prodotto eccellente, così diventa ancora di più un prodotto professionale e poi questo rientra in un contesto, in un progetto mio macro progetto, che è quello di cercare di sensibilizzare il più persone possibile e portarli a scavalcare la barricata, perché lo saprete meglio di me, noi trader privati siamo un po' carne da macello, mi ci metto dentro anch'io pur facendolo professionalmente senza alcun tipo di problema e c'è tutta una specie di orchestrazione, ma non è che si mettano d'accordo, è una cosa che avviene abbastanza automaticamente ai danni del trader retail, del trader privato, cercare di passare dall'altra parte della barricata può significare anche fare una cosa di questo tipo, non limitarsi a guardare il grafico orario, ma buttare l'occhio anche sul 2 ore, che ripeto è un grafico che viene molto molto guardato. Il motivo è semplicissimo, come chi ha avuto modo di partecipare al mio corso sa, io consiglio nei momenti in cui si fatica per il rumore a interpretare il grafico, di allargare il time frame, questo qui è molto chiaro, però ci sono delle volte dove magari il grafico orario è molto sporco, vedete tutte queste shadow, questi stoppini che possono a volte essere abbastanza fastidiosi, allarghi di uno il time frame e cerchi di interpretare, vedi che allargando di uno ti pulisce un pochino il grafico, è ovvio che più scendo col time frame, ecco un'altra cosa bella di questo qui è muoverlo anche con la freccettina, adesso vedete non sto utilizzando il mouse e con la freccia cambio il time frame, un'ora il grafico è un pochino più sporco, con le 45 minuti, il 30 minuti ovvio si sporca sempre di più, cioè il movimento è sempre questo, ma come intuirete e come alcuni di voi certamente sapranno, allargare il time frame significa semplicemente a volte, non sempre, però pulire un pochino il grafico, quindi ecco un consiglio che do a tutti quando non si capisce o avete il dubbio sul pattern piuttosto che sul trend eccetera eccetera, allargate di uno il time frame, quindi se siete sull'orario passate al due ore, quello che poi fanno i grandissimi trader americani di cui parlavamo prima e provate a vedere se così si capisce meglio, ok, benissimo, allora tornando a noi e tornando al nostro N-TIC, il discorso dell'N-TIC vi dicevo nasce per risolvere il problema di orari in cui c'è poca liquidità o titoli dove c'è poca liquidità, quindi questo è uno strumento che sarà molto apprezzato anche da tutti coloro che tra gli utilizzatori di Visual Trader si dedicano ai titoli sottili, vediamo subito un esempio, prendiamo ad esempio il nostro S&P 500, lavoro con i future, ma ripeto il discorso è assolutamente ripetibile anche per i titoli sottili, sapete che l'S&P 500 trattato al mercato CME, cioè al CME come a volte si dice, è un contratto che viene trattato per 24 ore, allora vediamo un pochino, allarghiamo qui il discorso, questo qua è un grafico a due ore e vedete che come dicevamo poc'anzi è molto pulito, ad esempio per guardare un contratto che viene trattato costantemente 24 ore su 24, parlo per esempio anche delle valute, è ovvio che un grafico a due ore può risultare veramente molto molto utile, perché vedete che ti dà una visione di quello che succede molto pulita, ti cancella il rumore e quant'altro, ma parliamo dell'NT, dicevamo poc'anzi, man mano che scendo un'ora il grafico si sporca un pochino, è chiaro che c'è più rumore, poi passiamo al, da quello a 45 minuti, vabbè passiamo al 15 minuti, vedete che il grafico si sporca ancora di più, passiamo al 5 minuti e vedete che ovviamente come saprete meglio di me c'è molto più rumore, c'è un grafico molto più frassagliato. Il discorso è questo, sostanzialmente a parte il discorso del rumore, un altro metodo, parentesi per eliminare il rumore può essere oltre a quello di salire di un time frame, quindi se sono sul 5 minuti passo al 15 minuti, vedete che un pochino si pulisce, si risolve il problema del rumore, ci può essere l'altro metodo che è quello di stringere come qua vi compare il grafico, è chiaro che se siete in una situazione così con il grafico zoomato, aperto come dico io, qui è molto facile perdersi nel rumore e fare degli errori magari dovuti solo al rumore, più stringete il grafico anche con time frame molto bassi, più avete una visione pulita di quello che può essere la tendenza, all'andamento, quindi un altro consiglio può essere quello di stringere il più possibile il grafico. Allora, riferendoci al nostro S&P 500, vediamo che nell'arco delle 24 ore, questo è un 5 minuti, ci sono dei momenti come questi che anche qui si vede sono un pochino frassagliati e sono chiaramente subito dopo la mezzanotte, cioè il cambio del giorno, cioè la notte. Se andiamo a zoomare quegli orari, vedremo che il grafico ad esempio a 5 minuti, eccolo qua, diventa molto simile a quello dei titoli sottili, queste sono le 5 e mezza, poi dopo è chiaro, aprendo una volta che apre il Giappone una roba e l'altra, l'influenza si sente di più, però è ovvio e si nota come un grafico di questo tipo che va avanti 24 ore in certi orari, questa qui è la mezzanotte, mezzanotte ora italiana, ma comunque i mercati americani chiudono alle 22 ore italiana, vedete come andando avanti nella notte il grafico somigli spesso, qui si vede molto bene, a quello di titoli sottili e quant'altro, vedete proprio la notte e si vede quando ho questi periodi, queste aree, queste zone dove a parte la lateralità, perché è ovvio che non ci siano grandi movimenti, il mercato può apparire molto frassagliato, bene, con il 100 tic, 200 tic, cioè con il grafico ntic e il suo utilizzo principe è proprio questo, si tende a risolvere questo problema, in che modo? Allora, scusate che ogni tanto guardo le domande, sì è vero, sì sì, per zoomare si possono usare tanti strumenti, la rotella del mouse, il più o meno, eccetera, eccetera, io adesso sono su un protatile, non ho la rotellina e per quello utilizzavo il più o meno, ok, comunque il discorso in generale è che lo zoom appunto è utile per cercare di pulire un po' di rumore, ok, allora dicevo, l'utilizzo principe, il motivo per cui nasce l'entic è proprio quello, risolvere i momenti in cui c'è poca liquidità, il grafico appare frassagliato e diciamo si capisce meno, non poco ma meno, allora a questo punto noi passiamo ad un grafico ntick, selezionandolo qua tra i nostri time frame disponibili, di default parte il 100 tick, ma si può dare il numero che si vuole, il 100 tick lo intuiamo, quello era un 5 minuti, sull'S&P 500 è un time frame ancora più stretto, quindi passiamo a aumentando il numero di tick, cioè il numero di contratti cui corrisponde la barra, per esempio a un 400 tick, ecco già così si vede che la notte, queste sono le ore, vedete, viene ristretta dalle 11 alle 7 a pochissime barre, cioè tutte quelle barre che prima avevamo visto erano frassagliate sul 5 minuti e non permettevano di capire cosa fosse successo, quale fosse la tendenza, vengono in questo caso condensate perché? Perché ognuna di queste barre corrisponde appunto a 400 tick, quindi a 400 transazioni, cioè a 400 dicevamo righe del nostro time and sales, anzi teniamolo in vista il time and sales che è sempre una cosa utile da fare, quindi 400 righe di queste qua, prescindendo dal numero di contratti o volume passato e quindi è chiaro che durante la notte di blocchi da 400 transazioni ce ne sono stati molto pochi, questo pulisce il grafico, elimina tutti i problemi dovuti alla scarsa liquidità e lo omogeneizza, perché che sia giorno che sia notte, io qui per ogni barra ho sempre 400 tick e come dico io, sgancia il time frame dal tempo, perché appunto questo si vede molto bene qui sotto, dove da mezzanotte il cambio del giorno, cioè 11 dicembre indica ovviamente la mezzanotte alle 7 di mattina, ora italiana, c'è stato molto poco volume se volete o comunque molto poco interesse, il grafico se avessi usato un time frame temporale sarebbe stato frastagliato, l'NTIC te l'ha risolto, poi dalle 7 alle 11 apertura dell'Europa è chiaro che l'interesse aumenta, dalle 11 alle 15 compreso il discorso delle 14, 14.30 dove vedete che e così via, 16.30 a 17, gli orari clu dalle 15 alle 16 in cui è aperta ovviamente l'America, l'S&P 500 e l'indice e questo è il future corrispondente, principe dei mercati americani, ecco è ovvio che crea più interesse e quindi ci sono più barre, perché? Perché di blocchi da 400 tick tra le 15 e le 16 o tra le 16 e le 17 o anche adesso ce ne sono di più, poi vedete adesso, guardate proprio con che cura ti fa capire l'andamento anche della giornata, perché dalle 17 alle 17.30, poi 17.30 a 18 ce ne sono state di meno, perché 18, 18.30? Perché questa è l'ora di pranzo degli Stati Uniti, adesso lì sono le 12.30, stanno tornando da mangiare perché mangiano un pochino presto, un po' alla tedesca, al massimo si spingono fino alle 13, quindi alle 13 sono le 19 ore italiane e vedete che il volume in qualche modo l'interesse sta ricominciando, quindi noi abbiamo un grafico che è potentissimo perché neutralizza dal fattore tempo e non solo, ma volendo ci fa anche buttando un occhio qua sotto sugli orari, se uno guarda solo qua sopra il fattore tempo è neutralizzato perché ogni barra corrisponde ad esempio a 400 o 200 transazioni, se invece guardi sotto hai anche un'idea di quello che è il tempo, quindi il tempo lo riesci a neutralizzare, ma se vuoi, diciamo così, lo riesci a tenere presente, insomma un grafico che io credo non possa mancare nei vostri strumenti, nella vostra cassetta degli attrezzi, come vedete si può usare anche su time frame molto elevati, tipicamente per studiare l'SMP500 si arriva anche a un 1600 tick, che è come un grafico a due ore e più se volete, questo ti dà modo di avere un contratto che viene trattato per tutto il giorno, molto come lo stesso principio, è molto pulito, è ovvio più allargo il numero di tick o time frame, più mi si eliminano gli effetti del rumore, il grafico è più pulito e tu in un colpo d'occhio riesci a vedere quello che è accaduto in un modo molto chiaro e che prescinde dal discorso tempo. Quindi ripeto, tenetelo presente e cercate di provare a guardarci dentro, a utilizzarlo, è una cosa con la quale come in tutte le cose si deve prendere un pochino di confidenza, ma ritengo che saprete, essendo voi un pubblico abbastanza avanzato devo dire, perché chi utilizza Visual Trader è storicamente come io stesso ho avuto modo di scoprire un pubblico evoluto, certamente non un pubblico di principianti e quindi sicuramente avrete modo di utilizzare al meglio questo nuovo strumento, adesso ne vediamo poi anche insieme altri utilizzi. Un utilizzo giusto per così andare un po' a ruota libera che ne faccio io, è quello di mettere sempre un numero di tic che come dico mi fa stare dentro tutto il grafico, potrei qui mettere se voglio vedere un giorno solo anche un 3200 tic, quindi ogni barra sono 3200 contratti e vedi che qua tu hai la tua giornata di ieri, bella chiara e molto comprensibile e studiabile. Io di solito per quanto riguarda il numero di tic da scegliere, potete mettere quello che volete, cioè anche 777, però diciamo e di nuovo conviene forse adeguarsi a quelle che sono le abitudini della maggior parte dei trader professionisti che poi ognuno può fare come vuole, per l'amor di Dio non ci sono regole fisse, però utilizzano di solito una traccia che è quella di utilizzare dei multipli, quindi parto con un minimo che è il 20 tic per quanto riguarda il nostro S&P MIMB, perché poi ovviamente dipende dal 20 tic, è chiaro su un contratto liquido come l'S&P 500, adesso lo vediamo in azione, è un po' una follia perché 20 righe te le fa in 20 secondi questo neanche, sull'S&P MIMB specialmente la mattina, l'apertura eccetera può essere un time frame abbastanza utilizzabile. Poi dal 20 tic che è, adesso si è bloccato il visual trader, chiedo scusa perché è una beta ovviamente, dal 20 tic dicevo intanto riavvio che è quello base, se voletevi scriverveli, si passa al 50 tic, questo quando si fa? Quando vedo che il 20 tic è troppo incasinato, in maniera molto semplice, proprio il principio di dire, quando non capisco più niente allargo di 1 il time frame, quindi ripeto, partiamo da un minimo che è il 20 tic, su contratti come l'S&P 500 avete visto è assurdo, quindi va molto anche alla liquidità, quindi per chi lo utilizzerà per quanto riguarda i titoli azionari, proverà i diversi valori di tic a seconda di quello che deve fare ovviamente e serve un periodo di, chiamiamola sperimentazione, dove provare tutti i diversi livelli e arrivare a conoscere per quel titolo, per quel future in particolare, quali sono i livelli di tic che vanno bene, io adesso qui come esempio mi sto riferendo a quelli del nostro S&P Mib che utilizzo sempre come esempio perché so essere più o meno conosciuto da tutti, anche da chi fa azioni, chiaramente non si può prescindere da quello che sta facendo l'indice di riferimento, ok? Allora, ecco ad esempio vedete qua su Fiat, che non è un titolo illiquido, però l'utilità del 20 tic, dell'NT si può sicuramente avere, ok? Aspetta che qui, ecco è andato via un attimo, volevo mettere in modo che possiate vedere, ok? Allora, ecco dicevo, serve comunque un minimo di far la mano, diciamo su sta cosa, anche se poi i livelli che si utilizzano sono più o meno sempre gli stessi, quindi partendo dal nostro Fib S&P come esempio, la mattina all'apertura si parte col 20 tic, poi si passa al 50 tic, quando qua non ci sta più, quando vedete che è troppo frastagliato, ad esempio questo è un 100 tic, è un po' brutto da vedere, ci metto un 200 tic, il criterio deve essere quello, allora ripetiamo, 20 tic, 50 tic e poi andate con i raddoppi, cioè semplicemente dal 50 passate al 100 tic, dal 100 al 200, dal 200 al 400 tic, poi 800 tic, 1600 e così via, infatti avete visto che prima gli esempi che avevo fatto erano con il 400 tic, il 1600 eccetera, quindi ripeto, 20 tic, 50 tic e poi via con i raddoppi, nulla vi impedisce di sbizzarrirvi, perché è giusto fare esperimenti e adattare il numero di tic al tipo di titolo che stiamo trattando, quindi il 150 tic va benissimo, il 300 tic va benissimo e così via, è chiaro che serve un periodo di, chiamiamolo così, addestramento dove uno si abitua ad avere una visione dell'NT che è adatta a quella che è la struttura e la liquidità del titolo. Il primo utilizzo, l'abbiamo detto, è quello di risolvere il problema dei titoli liquidi, è quello di risolvere il problema di ore notturne, dove quindi come nel caso del future che tratta 24 ore o ad esempio le valute ci possono essere momenti un po' morti, andiamo a vedere adesso un altro utilizzo molto utile, che ne approfitto perché lo collego ad alcune domande che nel frattempo ho ricevuto e le quali vorrei rispondere, allora gli indicatori oscillatori funzionano tranquillamente e senza problemi anche con l'NTIC, le figure di analisi tecnica, non solo parliamo di pattern, terza spalle, rottura di trend line etc., non solo rimangono le stesse, ma sono molto più visibili a volte, come magari avrete intuito grazie al fatto che si pulisce il rumore e soprattutto per quanto riguarda titoli liquidi e orari tipo l'ora di pranzo o orari notturni, dove a volte abbiamo delle rotture di trend line, come alcuni di voi sapranno benissimo, dovuta a una lateralità che è quella ad esempio della notte, dell'ora di pranzo, ma non è realistica, quindi con l'NTIC abbiamo modo di depurare i nostri grafici anche da falsi segnali come tipico esempio la farsa rottura delle trend line dovuta al fatto che in realtà era l'ora di pranzo, quindi c'è stato un movimento laterale, poi continuo a leggere le vostre domande, NTIC serve per un grafico sottile? No, serve per tutti i grafici, ma non è utile solo per i grafici sottili, va bene per qualsiasi grafico e la sua nascita dicevo deriva dal fatto che per i titoli sottili oppure per orari notturni etc., ti omogeneizza la scarsità di liquidità, ma va benissimo anche, anzi è utilizzatissimo sulle semplici 5 centri sul Bund che sono i grafici più liquidi del pianeta, quindi assolutamente. La disponibilità di questo non in beta sarà entro Natale, quindi regalo di Natale diviso dal trader arriva sul gioiellino per tutti e tutti potremo utilizzarlo e sfruttare a pieno le capacità e l'utilità di questo grafico. Allora, andiamo a vedere il discorso grazie alla domanda che mi è stata fatta, molto pertinente sulle figure di analisi tecnica, perché la vera forza del NTIC nasce proprio da questo motivo, cioè dal fatto che ti permette di, torniamo ad esempio all'S&P 500 che ha questa cosa della notte, che è molto utile, qui c'era un 20 TIC, mettiamo il 200, che se no è un po' pochino, c'era questa cosa molto utile del NTIC per quanto concerne le figure di analisi tecnica. Si può fare un esempio con una trend line, qui anzi con l'S&P 500 200 TIC è ancora poco, mettiamo in orari di mercato aperto, mettiamo un 400 TIC, ecco io ad esempio faccio l'esempio sull'S&P 500, la mattina l'S&P 500 lo tengo a 100, perché comunque gli scambi sono abbastanza bassi e poi via via che si va durante il giorno 200, più o meno da quando apre come minimo devi tenere 400, perché vedete la liquidità è molto molto alta, quindi ok, allora vediamo il discorso delle trend line, ovvero delle figure pattern di analisi tecnica che hanno grazie all'NTIC una validità ulteriore e sicuramente più elevata, allora se io per esempio vado a tracciare una trend line, adesso prendiamo qua il disegnino, non so, prendiamo un grafico, anzi perdonatemi, prima vi voglio far vedere sul due ore e poi prendiamo il, no facciamo una cosa ancora meglio, prendiamo il tipo 5-15 minuti, che è quello che si risente di più del discorso notturno, quindi io chiaramente in un caso del genere ho, come vedete, il problema della notte, quindi onestamente se qui avessi, prendiamo il 15 minuti che questo è fin troppo dettagliato, è chiaro che le zone di laterale, quelle frastagliate come le chiamo io sono quelle della notte, ok, mettiamo che io avessi tracciato una trend line qua, perché adesso la faccio un po' a caso, ma giusto per capire, qui posso dire ah vabbè, me la rotta stanotte, tipico discorso che tutti voi hanno provato, perché vedete che effettivamente questo è stato il pomeriggio di ieri e questa notte la trend line è stata rotta a rosso, semplicemente non è detto, cioè il fatto della notte, ovvero della scarsa liquidità, faccio l'esempio della notte, ma per i titoli sottili vale anche, vale per tutto il giorno ovviamente, ha provocato questa lateralità, quindi il problema dei grafici con un time frame basato sul tempo è proprio questo, che il pattern risente, non è robusto, perché? Perché risente, viene spostato, viene modificato dal passare del tempo, cosa di per sé giustissima, perché saprete meglio di me che il tempo è uno degli elementi che si utilizzano in un'analisi tecnica, ma se è un tempo, chiamiamolo taroccato, un tempo modificato dal fatto che a quell'ora non c'è nessuno perché dormono tutti, è chiaro che la validità del tempo è relativa, un conto è se io avessi un'omogeneità, quindi non so, il nostro S&P Mib più o meno, a parte l'ora del pranzo, ha una sufficiente omogeneità di liquidità per tutto il giorno, quindi questo discorso può non valere, anche se ripeto, dalle 11 alle 2 c'è un pochino di effetto dovuto alla scarsità di liquidità dell'ora di pranzo, quindi 11, mezzogiorno quello che è, fino alle 14 quando si riprende, l'effetto si può vedere anche sul nostro, ma soprattutto su mercati che sono aperti tutto il giorno e tutta la notte o ripeto i soliti titoli sottili di cui abbiamo detto, questo diventa un discorso assolutamente indispensabile, spero chiaramente di essere stato sufficientemente chiaro, ma il discorso è proprio questo, si possono rompere delle trendline o avere dei segnali che in realtà non sono veri, non sono derivanti dal fatto che ovviamente c'è stata la rottura. Andiamo a vedere sull'NTIC, questo è il 15 minuti, quindi da questo passiamo per esempio all'NTIC, prendiamo la nostra finestrella qui, vedete è molto comoda, uno evita di fare clic destro e tutto, si passa all'NTIC con 400 TIC, ecco, dice ma l'ha rotta lo stesso? Ho capito che l'ha rotta, però qui sono le 8 di sera, ipotizziamo che sia la stessa, poi chiaramente con l'NTIC va minimamente aggiustata, quindi poteva essere questa, se volete, però il discorso mi sembra abbastanza analogo, nel senso che qui sono le 17 e 21, cioè il fatto che ti abbia omogeneizzato la notte questa rottura, cioè non è avvenuta per il fatto che di notte non c'era nessuno, ma per il fatto che dopo un po' la lateralità è effettivamente proseguita e diciamo così, è chiaro, poi siamo andati in laterale, quindi la rottura è sicuramente stata confermata, ma io di base non è che potessi basarmi sulla rottura che avevo visto sull'NTIC, scusatemi sul grafico a 15 minuti o comunque basato sul tempo, perché? Perché era assolutamente falsato dal problema della notte, che mi sembra fosse questo discorso qui, quindi ho sia nel tracciare le trendline, perché avete visto che chiaramente l'ho dovuta modificare, appena abbiamo switchato, ho cambiato il time frame tipo così, l'ho dovuta modificare perché? Perché l'ho appoggiata a questo minimo che non essendo più basato sul tempo era cambiato, ma al prescindere da questo era giusto per farvi capire, ovviamente qui magari poi ho commesso degli errori, per l'amore di Dio, però era giusto per farvi capire che avere un grafico sganciato dall'effetto tempo, porta a risolvere tanti problemi per quanto concerne le figure dell'analisi tecnica, che ad esempio su questo contratto che viene trattato 24 ore su 24, diventano su grafici come il 15 minuti o il 5 minuti addirittura, molto molto poco visibili, proprio per questo problema di orari, come l'ora di pranzo, di scarsa liquidità. Facciamo un altro esempio, stamattina abbiamo avuto, parlo del nostro S&P 500 sempre, questo è sempre un 400 tick, un movimento che io posso pensare a essere al ribasso, quindi lasciando perdere quello spike lì così, più o meno, adesso facciamo una cosa, io poi non utilizzo le trendline nel mio trading, quindi vi prego di scusarmi, comunque il discorso è che dice la rotta al rialzo, sì, posso crederci, perché? Perché questo è un N tick, secondo l'N tick il movimento a ribasso iniziato questa notte ora italiana, è stato rotto adesso o meglio dalle 18 in poi con questo movimento, diciamo man mano che tornavano dall'ora di pranzo che, lo ricordiamo, l'abbiamo detto prima, era questo pezzo qui così. Ecco, siccome sono sull'N tick, diciamo in una parola, mi posso fidare di più di questa rottura, proviamo a vedere su 15 minuti, ipotetico o comunque su un time frame temporale, il 5 minuti quel che l'è, chiaramente la trendline va ritracciata, allora vedete prima cosa come è molto più sporca, cioè io qui avrei avuto un segnale di rottura, dice ma no, perché era più in alto, capì? Mettiamola qua così, ecco, avrei avuto un segnale di rottura già a luna, ok? Cioè nella nostra ora di pranzo, che in realtà era finto, perché poi vedete che è rientrata, cioè questo movimento che poi dall'apertura di Wall Street in poi ha rivisto un certo ribasso, era se volete una falsa rottura a rialzo, cosa che poi è avvenuta, quindi quello che sull'N tick a 400 era solo uno spike, avete visto, su un grafico a 15 minuti che grossomodo può corrispondere, sarebbe risultato in una falsa rottura, quindi io in un discorso del genere, voi capite, avrei ricevuto ed è ovvio ed è palese un falso segnale, la rottura avvenuta adesso, cioè tra le 18 e le 19, quel che è, è sicuramente più veritiera, più affidabile, sia perché la barra verde è più bella di queste che sono tutte sporche e sicuramente molto indecise, come diciamo, poi chi mi segue, avremo modo di parlarne sul sito, magari in altri video live, io ho un utilizzo delle shadow che mi aiuta a capire, è un utilizzo un po' alternativo delle candele giapponesi, le aree dove sono, in questo caso i venditori, in questo caso i compratori, però è chiaro che la presenza di questi venditori mi aiuta a classificare come falsa rottura questa qui, mentre stavolta la barra è venuta su bella piena, adesso c'è un po' di ritracciamento, però è sicuramente più affidabile, questo per quanto riguarda un utilizzo del grafico a 15 minuti, ma se torniamo sull'N tick è probabile che il falso segnale che avremmo ricevuto alle 13 sarebbe stato depurato automaticamente dal nostro magico, lasciatemelo dire, N tick, perché guardate la situazione, mettiamo l'800 tick che magari è più veritiero, ma insomma presumo che molti di voi sicuramente i più esperti stanno iniziando a comprendere, è ovvio, bisogna prenderci un pochino la mano, guardate tutto il movimento tra l'1 e le 2, cioè questa zona qua, perché poi qui sono le 15, le 16, che in realtà era molto, molto al di sotto della trend line, che non è stata praticamente neanche scalfita se non da questa codina qui, anche se mettiamo 400 tick è assolutamente evidente, quindi vedete quanti falsi segnali si ricevono, perché anche con 400 tick notate come proprio c'è stata tutta questa zona di assoluta permanenza dell'impostazione ribassista, laddove di là sembrava una rottura rialzo, quella di adesso, analogamente a quanto detto prima, è sicuramente più affidabile, più veritiera. Questo discorso lo applicate a tutto, al testa a spalle, minga a testa a spalle, triangoli, pennant, rettangoli, tutte le figure di analisi tecnica assumono una visione nuova e quindi capite sicuramente perché i professional, la gente sia che lo fa di mestiere a livello elevatissimo, perché è chiaro, anch'io lo faccio di mestiere, ma non sono certo paragonabile all'edge fund americano che investe miliardi di dollari, che ha miliardi di dollari in gestione e quindi chiaramente bisogna sempre, come si dice, prendere l'esempio da quelli più bravi, questo è sicuramente un metodo ottimo per imparare a fare trading, che poi il fatto di imparare è un percorso che prosegue per tutta la vita, quindi immaginate, e avete capito perché, adesso su questo vado a innestare uno dei miei soliti discorsi, che è quello che guarda caso, ad esempio in Italia tra i trader retail, l'NTIC è molto, molto poco diffuso, a questo punto mi sento di poter dire era, perché sono certo che già voi e poi io continuerò a martellare dal sito come sto già facendo in tutti i miei seminari e quant'altro, sono certo che questo NTIC risulterà essere un grafico molto diffuso anche in Italia, anche dai trader privati che si faranno, tra virgolette, prendere in giro un pochino di meno, perché l'avete visto poco fa con il discorso della trendline rotta falsamente, cosa che sul grafico a tempo avviene e le false rotture sono un nostro problema, lo sapete meglio di me, come queste false rotture su un grafico NTIC risultano molto, molto, molto meno frequenti, vi chiedo scusa per l'enfasi, ma è un discorso al quale tengo molto, perché è chiaro che al trader privato, se il trader privato non viene dotato degli strumenti dove si vede realmente quello che succede, sicuramente l'NTIC e come saprete alcuni di voi certamente, il market profile, che è un altro strumento che sto facendo includere in visual trader e gli ottimi programmatori sono già al lavoro, è chiaro è uno strumento un pochino più complesso, ma speriamo di regalarvelo per questa primavera e questo sarà un ulteriore elemento che aggiunge trasparenza al mercato e che dovrà entrare a far parte del vostro arsenale, per forza, ma non nel senso che dovrete usare solo il market profile, solo l'NTIC, perché il nostro arsenale, il nostro metodo, la nostra strategia è la nostra cassetta degli attrezzi, quindi noi dobbiamo aggiungere tutti quegli strumenti che ci consentono di non partire con un handicap che non ci consentirebbe mai, perché abbiamo le commissioni e in più diciamo che o per pigrizia o quello che è, vedevamo e mi permetto di usare l'imperfetto, vedevamo cose che adesso risiedono e risiederanno nel nostro passato, come il grafico solo temporale, come il fatto di non vedere il market profile, tutte cose che i professionisti del trading a livello planetario utilizzano, quindi se lo fanno loro, dico sempre, magari diamogli un'occhiata, è lo stesso discorso del simulatore, il professional che lavora nell'edge fund prima di dargli i soldi in mano, lo fanno stare sul simulatore, non vede una ragione per cui noi non dovremmo farlo e dimostrare prima con i soldi finti, come si dice, che non è una volgarizzazione, ma è semplicemente un modo per allenarsi che siamo capaci di guadagnare. L'NT, il market profile, sono tutti strumenti utilizzati da queste persone che, come i motivi li avete visti molto chiaramente, spero di essere stato chiaro, aggiungono una visione del mercato unica, una visione del mercato che la media dei trader privati, chiamiamoli e anche dilettanti se volete o comunque piuttosto improvvisati, cosa che io sono certo, molti di voi non sono e stanno lavorando, anche grazie, lo dico modestamente ai miei interventi, per accrescere il loro livello di professionalità e vedere le cose, dico sempre io, passiamo dall'altra parte della barricata, andiamo a vedere quello che fanno i trader professionisti e, tra virgolette, senza cattiveria non facciamoci fregare, così passiamo meno tempo sul forum di turno a lamentarci del fatto che loro sono cattivi, ma capendo come ragionano, utilizzando gli strumenti che usano loro, riusciamo ad essere dall'altra parte e a cavalcare l'onda creata dai loro movimenti, che è il vero trucco, perché è inutile continuare a dire che cattivi hanno mosso il mercato etc., una volta che riusciamo a leggere quello che fanno, abbiamo un vantaggio enorme, ma per farlo dobbiamo disporre di strumenti come questo NTIC che utilizzano anche loro, come il market profile che utilizzano anche loro e che verrà incluso in Visual Trader, speriamo di farcela per questa primavera o comunque per l'ITF e tante altre cose che io mi sto prodigando per diffondere, perché sono cose che ho utilizzato in modo profittevole da sempre e trovo giusto che le persone le conoscano e la mia fortuna è stata aver studiato solo e esclusivamente su libri in inglese, perché ho avuto la fortuna di conoscerlo molto bene e so che per tutti non è così, infatti ultimamente sul mio sito ho aggiunto una serie di libri in italiano che ho trovato grazie a una ricerca che è durata qualche mese, alcuni lo sanno, per cercare di superare questo discorso, però il fatto di formarmi solo negli Stati Uniti, sempre virtualmente, ma di fatto è stato così, mi ha dato una visione delle cose molto vicina a quello che viene fatto là, non sono un americanista, un filo americano, però lì di base c'è più liquidità, il trading anche fatto privatamente è una realtà che esiste da molto prima del trading online, perché c'era gente, come lo stesso John Bollinger mi ha raccontato che lo faceva al telefono nel 1980, perché lui non è mai stato presso un exchange o un pit trader, è uno che come noi ha operato da casa col telefono e lo faceva nel 1980, certo, quindi non è neanche la roba trading online, minga trading online, si tratta di persone che ancora prima hanno iniziato questa grandissima tradizione, quindi come sempre cerchiamo di imparare dai migliori, cerchiamo di imparare dai numeri uno, poi magari riusciremo anche a superarli e non nego che in Italia ci siano persone molto molto valide, però è chiaro, cerchiamo di guardare quello che usano loro, quindi in una parola, siccome usano l'entic, facciamolo anche noi, siccome usano il market profile, facciamolo anche noi, questo non vuole dire buttare dalla finestra tutto quello che sapete, ma integrare, integrare e aggiungere chiaramente nuovi strumenti alla nostra cassetta degli attrezzi. Un'ultimissima cosa riguardo il discorso degli indicatori, va benissimo utilizzarli, io non ne faccio uso perché quello che vedete è quello che faccio io, anzi non uso neanche come vi dicevo le trendline, uso solo quelle orizzontali, quindi al limite mi metto la righina qui così, la righina qui così e quello che guardo sono massimi e minimi precedenti, quindi una cosa molto pura, sono quelli che io vediamo i punti che vedono tutti, prescindendo da quelli che sono, sono i punti che su un grafico ti chiamano, se li vedi subito ci sono e se no non ci sono, perché? Perché questi sono i punti che a prescindere dalla metodologia utilizzata, GAN, Fibonacci, oscillatore del momento, minga del momento, funzionano e sono loro, perché? Perché quando il mercato arriva qua, oppure quando arriva qua, oppure quando arriva qua, sicuramente c'è un'attenzione a livello planetario, perché i mercati funzionano a livello globale e quello è un punto, come dico che vedono tutti, è un punto in cui c'è un'enorme attenzione da parte del mercato e di nuovo, se stanno tutti attenti è bene esserlo anche noi, è chiaro che la trendline, l'indicatore di turno, l'oscillatore di turno dipende da come è stato settato, da come è stata tracciata la trendline e quant'altro, quindi si dà una visione che può essere sicuramente parziale, cioè diversa da quella che vede uno in Giappone in questo momento che sta operando sull'S&P 500 o uno che è in Alaska, il fatto di concentrarsi sui punti che vedono tutti, eliminando tutti gli oscillatori, tutti gli indicatori è anche un modo per lavorare di nuovo come lavorano gli istituzionali, gli hedge funds e i grossi investitori, perché quando leggiamo nei vari forum si sono messi d'accordo che cattivi, immaginate solo la fatica di settare tutti gli oscillatori di tutti gli istituzionali sugli stessi livelli, cioè devono passare le giornate al telefono, questo chiaramente non avviene sia perché è illecito, allora sì, ma soprattutto perché c'è un metodo molto più semplice per mettersi d'accordo, semplicemente darsi un appuntamento virtuale nei punti che vedono tutti, che sono i massimi, i minimi e quelle cose come dico che ti balzano all'occhio, basta perché l'argomento della lezione ovviamente non è questo, però era per dire perché io non utilizzo oscillatori e quant'altro, ripeto comunque e spero di aver dato a qualcuno di voi un hint, un piccolo suggerimento, lavorate per cercare di passare dall'altra parte, non dobbiamo lamentarci per quello che fanno i grandi investitori, ma 1, imparare da loro, 2, fare come loro, 3, guardare quello che guardano loro e con questo mi fermo. Andiamo con le domande, scusatemi per l'eventuale durezza, ma è solo perché tengo molto a questi argomenti e chi mi conosce sa quanta passione metto in cucciolo. Allora, vediamo le domande, velocissime che siamo già fuori tempo massimo, quindi chiedo poi agli amministratori se devo chiudere, me lo dicano e chiaramente chiudo, perché in teoria avevamo tempo fino alle 7 e il server si paga, quindi mi dicono che c'è ancora un pochino di tempo, ma ok. Allora, andiamo avanti, può avere dei vantaggi ad essere utilizzato su titoli, anzi, mettiamolo così, vedete anche voi le domande, ecco queste sono le domande che voi mi fate nel frattempo, le tengo in un angolo perché se no mi distraggo, eccetera, eccetera. Allora, può avere dei vantaggi ad usarlo su titoli molto illiquidi nell'intraday, certo, è il suo utilizzo principe, quindi usare l'NT su titoli illiquidi in intraday è fantastico. Poi, sono decisioni di storico per fare palestra, cioè simulazione di visual trader, sono assolutamente insufficienti, questi sono gli abbonati di intesa che hanno il visual trader gratuitamente, che dava, diciamo meglio, poco storico, consiglio a loro di scaricare la nuova versione perché da venerdì scorso a Napoli, sono stato anch'io presso lo stand di intesa, abbiamo presentato il visual trader pro che è disponibile per i clienti di intesa, non tutti, ma quelli che hanno la titreno frame, esattamente, che è quella avanzata e lì come storico avete come il visual trader normale, i due anni e quello che è, quindi sono adesso assolutamente sufficienti, quindi chi utilizza visual trader tramite intesa faccio all'aggiornamento perché adesso può utilizzare la versione pro, non c'è ancora l'NT, ma ripeto, entro Natale arriverà per tutti, quindi da quando è disponibile non in beta, ok. Poi saluto ovviamente Marco e tutti quelli che sono venuti al mio corso di novembre, quello a pagamento di due giorni dove abbiamo parlato del mio metodo e abbiamo lavorato molto bene, anche in questi giorni ci stiamo sentendo e implementando e migliorando perché poi anch'io sto imparando tantissimo, quelle che sono i miei insegnamenti, ma comunque è la mia strategia, il mio metodo e quant'altro. Me l'ha rotta stanotte, ma è equivocabile, ok, il discorso della rottura delle trendline abbiamo capito che è assolutamente utile utilizzare l'NT per confermare rotture di trendline e anche le figure tipo i triangoli e cose simili, è disponibile per tutti i tipi di abbonamento, quindi senza alcun tipo di problema, tutti gli abbonati a visual trader e anche quelli che lo utilizzano tramite intesa, diretta, eccetera, avranno assolutamente disponibile il grafico ANT, che è ragazzi lasciatevelo dire, scusatemi il termine, una figata pazzesca, ragazzi e ragazze anzi, perché so che ci sono moltissime ragazze che fanno trading, anzi apro una parentesi perché devo dire che molto spesso le donne hanno un approccio che a noi uomini manca, non a caso una delle mie grandi maestre è stata l'inda, nel senso che anche sarà il carattere, sarà quello che sarà, però le donne veramente risultano essere spesso molto portate e molto più portate degli uomini, parlo in modo naturale al trading, perché hanno una solita differenza tra uomini e donne, potremmo parlarne per ore, però hanno alcune predisposizioni, poi noi lavorandoci ci possiamo arrivare, però veramente conosco persone che sono veramente eccellenti trader e sono di sesso femminile paradossalmente, quindi paradossalmente perché sembra un mondo di uomini, ma in realtà non lo è, anzi faccio un saluto a tutte le ragazze e donne che mi stanno seguendo, ovviamente per ovvi motivi di equità e parità di trattamento, ma veramente complimenti perché ci sono sempre più donne che si dedicano al trading e lo fanno in maniera eccellente, ho avuto una persona splendida che si chiama Giulia, se c'è saluto che è venuta al mio corso che abbiamo fatto a novembre, che è veramente molto brava, che si dedica veramente in un modo che noi uomini diciamocelo spesso non abbiamo al trading, quindi noto proprio questo vantaggio che hanno internamente. L'SMP Mini è aperto anche la notte? Sì, la versione Visual Trader è una versione beta, quindi non ancora disponibile per tutti, entro Natale sarà disponibile per tutti, sul grafico a 15 minuti non è un po' lento per fare le entrate? Sì, può essere lento o veloce, quello va a carattere, va a metodo, qui non abbiamo il tempo, comunque sì, può essere lento, come dico sempre, il grafico a 15 minuti, 30 minuti, 5 minuti, si sceglie in base alla capitalizzazione, non è che il time frame lo scegli solo in base ai tuoi gusti, ma anche in base a quanti soldi hai, magari a questo dedicheremo un altro video live, ma è chiaramente un discorso molto importante di money management da fare. Sui stay out no, perché questo è un pattern che io insegno e magari chi lo vuole sapere ne parliamo via email, è meglio utilizzare un grafico a tempo, perché il 6 out è un pattern basato sul fatto che molti oscillatori sono settati in un certo modo e prende spunto dal fatto che quelli che guardano gli oscillatori con questo pattern un pochino non me ne vogliano, li freghi, chiaramente non l'ho inventato io, l'ho preso da Alan Farley che è un americano che ha scritto Master Swing Trader, è un libro che comunque c'è nella mia lista sul sito di libri e comunque va bene, possiamo parlare anche così sul sito. Poi andiamo avanti, se siamo tutti professionisti chi fa il pollo? No, il discorso è che la distinzione tra, chiamiamoli polli ma senza offesa, è quella tra chi affronta il trading in modo professionale e chi lo affronta in maniera diltesca, chi lo fa in maniera dilettantesca è tra virgolette il pollo, cioè quello che non studia, perché per fare queste robe bisogna studiare, quello che non sa cos'è l'NTIC, quello che non sa cos'è il market profile, perché poi uno può anche sapere cos'è e decidere di non usarlo e fare miliardi, per l'amor di Dio, però sapere che esiste, sapere che è uno strumento utilizzato e guardato dai professional, parlo degli istituzionali, degli hedge fund e quant'altro è una cosa che dobbiamo fare, poi anche io ci può essere la giornata che non guardo il market profile, però so cos'è, so che loro lo guardano, questo intendo dire. Per quanto riguarda la mia email, quindi non c'è il pollo e il professionista, c'è il professionista e il dilettante, il dilettante è chi arriva sui mercati impreparato e le probabilità sono tutte in suo sfavore, quindi non è un discorso di pollo o non pollo, è un discorso di affrontare, ripeto, la distinzione trader part time, trader full time, è in qualche maniera superata, perché? Perché oggi siamo tutti in qualche modo, se volete, trader part time, perché quei mercati aperti 24 ore su 24, te voglio vedere a farlo full time, la distinzione vera è quella tra trader professionisti o che lo fanno professionalmente, anche se hai 2 ore a settimana e lo fai solo il sabato sui grafici weekly, ma la distinzione è chi lo fa professionalmente con gli strumenti utilizzati dai professionisti e tra chi lo fa in modo dilettante e improvvisato, tra l'altro a proposito di trader part time, esatto, anche il libro di Pietro, di Lorenzo, è un buon libro che infatti consiglierò, perché a me è piaciuto molto perché appunto col titolo trader part time, ma in realtà oggi siamo appunto tutti trader part time, quindi il volume 2 sarà probabilmente, se posso suggerirgli un titolo, siamo tutti trader part time, perché poi alla fine è la verità, con i mercati aperti 24 ore, anche chi lavora non si deve sentire inferiore a chi sta tutto il giorno sui mercati, perché anche quello che sta tutto il giorno sui mercati deve mangiare, deve andare a letto, deve andare in bagno, deve farsi il giretto, quindi voglio dire. Vale anche sul six out? Abbiamo detto no, utilizzate il six out, poi chi vuole sapere cos'è ne parliamo sul sito, solo sui grafici a tempo, perché è un pattern fatto per fregare, tra virgolette, senza offesa per nessuno, quelli che usano gli oscillatori, per cui gli oscillatori di solito sono settati sui grafici a tempo, gli sogrammi a volume continuano ad essere efficaci? Sì, io stesso li sto utilizzando in questo periodo in cui non uso il market profile, perché non c'è ancora in visual trader e chi mi segue sul sito lo sa, ho deciso di usare solo visual trader per i problemi incontrati con altre piattaforme, su operatività molto strette, cioè 5 minuti etc., allora ho deciso anche di rinunciare al market profile e quant'altro. Quindi le linee blu le sto usando ogni giorno, sulle valute è ottimo, perché andando avanti 24 ore sono uno degli strumenti principi su cui utilizzare l'NTIC, attenzione però, perché sugli spot, ottima domanda, ringrazio, non c'è il TIC, perché io non so per chi fa valute spot, allora cosa faccio? Uso un proxy che è semplicemente il corrispondente contratto future, cioè come abbiamo avuto modo di dire anche a Napoli, perché mi è stata fatta anche a Napoli questa domanda, per le valute laddove mancano i volumi può essere molto utile utilizzare, per esempio l'EuroFX, prendiamo il dicembre sul CME, può essere molto utile utilizzare il corrispondente contratto future, perché? Perché lì ci sono i volumi, perché lì c'è il contratto, quindi io posso se voglio avere delle cose dove devo vedere i volumi, dove devo vedere l'NTIC, dove devo vedere non so che cosa, utilizzare l'EuroFX, il contratto Euro-Dollaro che si quota al CME, cioè il future corrispondente, non è lo spot, ma è un buon proxy, cioè un buon chiamiamolo tarocco. Ok, poi andiamo avanti, ringrazio ovviamente i vari complimenti, poi combinando NTIC e linee blu cambia tutto, esatto, ovviamente, gli utilizzi sono molteplici, io ragazzi vi ringrazio, mi dicono dalla regia, chiamiamola, che il server si paga, perché ovviamente per fare queste trasmissioni utilizziamo moltissima banda e quindi la banda sono soldi, perché è come tenere la luce accesa con 3000 Watt sparati, ecco per capire, quindi adesso facciamo rivedere il sito, il 6 out, me lo ricordate via email per favore, perché se no io ovviamente mi dimentico ed è ovvio che sull'NTIC stasera ci sarà un bel movimentino, anzi è vero, alle 8 e un quarto escono i dati e quindi assolutamente. Allora, vi saluto, vi faccio rivedere email e sito, se lo trovo, eccolo qua. Allora, per quanto riguarda l'email è profste.gmail.com, comunque voi mettendo o il mio nome, Stefano Bargiacchi o Profste, ancora meglio, che è il mio nickname su Google, vi salta fuori il sito, vi salta fuori l'email, vi salta fuori tutto, quindi voi ricordatevi semplicemente Profste, lo mettete su Google oppure Stefano Bargiacchi, vi salta fuori e senza problemi. Vi ringrazio veramente tanto, abbiamo un altro appuntamento col video live, settimana prossima a quest'ora, mi sembra quindi martedì prossimo alle 18, volevo dirvi che il prossimo io l'ho dedicato a, ecco facciamo così, anzi se siete d'accordo, poi magari mi iscrivete, se siete d'accordo, il prossimo avevo deciso di farlo sulle domande e in particolare magari appunto cose del tipo pattern come il six out, se vi ricordate lo possiamo vedere insieme e se c'è un interesse di tutti o domande su quello che volete, anche su utilizzi, simulatore, cose varie, poi magari già che ci siamo vediamo anche altre due o tre cose sull'NTIC e visto che sarà attivo vi farò vedere l'NVolume, cioè quello uguale a questo che abbiamo visto stasera, ma basato sul numero di volumi. Vi ringrazio perché siamo assolutamente in ritardo, quindi appuntamento a martedì prossimo, sempre qui sul nostro video live e tra parentesi mi è stato detto che tutte le registrazioni, siamo un pochino in ritardo, grazie. 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 Grazie.